Fermiamo le guerre. Anche Teramo scende in piazza per dire basta ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Sabato pomeriggio alle 17 un corteo partirà da Piazza Martiri della Libertà per raggiungere Largo San Matteo di fronte al Palazzo della Prefettura. La manifestazione, promossa dalla CGL, ha raccolto l'adesione di 18 associazioni e partiti. Abbiamo coinvolto e abbiamo organizzato insieme questo momento per dire no alla guerra. Fermiamo le armi. Ci siamo seduti intorno a un tavolo con le associazioni e i partiti che hanno a cuore un messaggio. Fermiamo le armi, i governi convocano una conferenza di pace all'ONU in cui si possa ricomporre quelli che sono i conflitti che martoriano il nostro pianeta in una direzione che è quella della pace, del rispetto dei popoli, della fratellanza e della solidarietà tra gli stessi. La manifestazione di sabato rientra nella mobilitazione nazionale che coinvolgerà diverse piazze italiane. È necessario per capire qual è il sentimento della popolazione. Abbiamo fatto e facciamo e anche il 26 ci saranno sette importanti piazze nazionali. È importante che si costruisca una consapevolezza sul territorio. È importante che tutti i cittadini possano manifestare come la pensano sul tema della pace. La maggior parte delle vittime sono bambini, sono donne, sono le persone fragili, sono le persone che poco hanno a che vedere con la guerra in quanto tale.